vediamo due strumenti di controllo della visualizzazione all'interno di un modello o di una scena il primo strumento è il view cube, cioè cubo di vista che in genere è in alto a destra ma è possibile anche modificarlo e cambiarlo che permette un controllo della vista sul disegno un controllo 3D, semplicemente cliccando ad esempio uno spigolo e quindi il cubo è una simulazione della scena quindi del mio modello e io sto guardando questo cubo proiettando la vista sulla scena spostando quindi, cliccando sul fronte ad esempio una vista frontale oppure nelle freccine laterali posso avere una vista, una rotazione da fronte, sinistro e dietro oppure ritornare in pianta per ritornare la vista o ruotare la vista basta semplicemente cliccare in queste frecce è possibile anche utilizzare questa che è la bussola che mi permette di ruotare attorno al baricentro del mio oggetto o del mio modello e quindi avere una vista attorno a un perno se io clicco nei punti cardinali ho una vista dalle 4 viste cardinali posso ritornare nella vista home, quindi la vista originaria posso cambiare anche l'UCSS o altro l'UCSS poi con il destro del mouse posso cambiare il tipo di vista da prospettico vista prospettica a parallela questo è il VioCube come si può vedere è molto interessante soprattutto cliccando e tenendo premuto il sinistro su uno spigolo è possibile ruotare in maniera interattiva quindi ruotare secondo il nostro desiderio attorno alla scena o al modello l'altro strumento è la barra di navigazione la barra di navigazione che ovviamente anche questa si può spostare o si può disancorare rispetto al margine destro come in questo caso contiene un disco di navigazione che è uno strumento abbastanza complesso fra l'altro ci sono diversi dischi più o meno semplici o completi che contiene gli strumenti base di visualizzazione ad esempio lo zoom quindi si sceglie la funzione zoom notare che il disco viene ancorato al cursore e per lasciarlo poi per interrompere basta cliccare semplicemente chiudi quindi orbita ad esempio in questo caso il perno dell'orbita è fuori dalla scena centro sposto l'oggetto quindi sposto il perno all'interno della mia scena orbita e quindi adesso vedo che la rotazione avviene attorno al punto che io ho definito come perno ovviamente c'è anche un pan c'è un zoom riavolgi quindi una serie di altre funzioni questo è un pan in alto e così via per chiudere si clicca sulla croce chiudi oppure semplicemente esc e ritorno nella mia scena iniziale la funzione pan ovviamente è la classica funzione di sposta quindi di pan sulla scena questo è lo zoom contiene tutte le varie funzioni di zoom controllo lo zoom orbita mi permette di creare quindi una vista attraverso lo strumento orbita che nelle versioni precedenti ricordiamo era abbastanza complesso soprattutto bisognava cercarlo nei vari menu l'ultima funzione interessante è show motion che è un strumento di visualizzazione e di presentazione che può essere usato per creare ad esempio come in questo caso una sequenza di o rotazioni o zoom che sono state create in maniera veloce con lo strumento nuova inquadratura questo strumento permette appunto di creare delle presentazioni di un modello in maniera molto agevole e semplice per chiudere lo strumento come sempre chiudi grazie a tutti